Io e Valeria ci separiamo. Davvero? È così? È la vita? E i ragazzi come l'hanno presa? Cosa? Nel migliore dei modi possibili. Sono estelefatto. La faccio trasferire in Svezia. Amref parte per il Mali. Devi partire tu. No, perché devi rinunciare tu. Chi parte? Io. E chi accudisce i ragazzi? Lei. O vi mettete d'accordo o saranno loro a decidere se stare con mamma o papà. Allora vuoi la guerra? Sei tu che vuoi la guerra. Sì, voglio la guerra. Ma è normale che sento aria? Non toccare, che ora lo pareggi? No, no, ma pareggi cosa? Pareggi. Fammi vedere. Papà, possiamo tornare a casa adesso? Tesoro, è importante che io e te parliamo. E dobbiamo farlo proprio qui. Quello di cui avete bisogno ora è di un punto di riferimento paterno. Se ti metti con questo mi trovo. Questa è casa nostra! Noi abbiamo deciso, vogliamo stare tutti con papà. Zitta! Ma ti ha dato uno schiaffo! E con questa sono due. Vai, Giulietto! No, ballo nero, giaffo! Lei si preoccupa del seno. Ha paura che le venga come il mio. Mamma! Guarda... No! 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 Grazie a tutti.